Così titola uno striscione e noi ci uniamo a questo applauso di tutto lo stadio. Si parte in questo istante. Nuovo cross e Brighenti va a girare al volo. Attenzione perché ora può avanzare Bianchi, prova il destro. Calcio di punizione, tredicesimo minuto. Colpo di testa, pallone che termina sul fondo. Formicone, attenzione a Maltese. Traversione gol di Mogos! Mogos! Quarto d'ora! E ancora lui, Vasli Mogos in due. Sul traversione di Maltese. Seguiamolo, Mogos che va a baciare tutti. Ci sono fiondati in due sulle traversioni di Maltese. Calcio di punizione, Benedetti tocca per Crialese. Il cross per Illy! Mamma mia, il pallone ribattuto. Perché Armer ha finito in fuorigioco, non è riuscito a servirlo. Il cross, arma di testa! Para Ravaglia. Punizione no, Crialese. Eccolo, Maiorino che va a mettere in mezzo. E c'è Perilli! Che riesce ad arrivare prima di Marconi. Tutti negli spogliatoi. Tutti negli spogliatoi. Dopo due minuti di recupero. L'arbitro Francesco Guccini controlla il cronometro e dà il via alla gara. La Siega punta l'avversario. Siega converge, palla sul destro. Il tiro di Siega. Pallone che termina sul fondo. Granata, Frascatore va a mettere in mezzo. Arma di testa, schiaccia il pallone, ci arriva Ravaglia. Angiulli, Angiulli, Angiulli. Prova il tiro debole. Pallone che termina sul fondo. Perpetuini, Perilli chiama il pallone, lo prende e lo tiene. Minuto numero 31. Vasile Mogos lascia il posto a Francesco Rampi. Applausi del pubblico. Voraggia, tuta e applausi per Mogos. Maltese d'esterno per Rampi. che ci arriva. Arma, manca il pallone. Angiulli alle stelle. Angiulli alle stelle. Trentacinquesimo minuto. Maltese Rampi. Accelera. Maltese, Arma finisce in fuorigioco. Maltese, il tiro. Pallone che termina sul fondo. Applausi per Nicola Siega che al trentottesimo minuto lascia il terreno di gioco. Al suo posto entra Luca Giannone. Luca Giannone. Quarantaquattresimo minuto. Esce Raccid, Arma ed entra Massimiliano Pesenti. Quarantaquattresimo minuto. Il cross molto lungo. Mamma mia che tiro questo da parte di Crialese. La vetta in classifica. La conquista. La Reggiana è i primi in classifica. Ha battuto la Cremonese. E vai col saluto alla Curva Sud. Si esulta.